Allora, vista dal campo, questa sconfitta come ce la puoi raccontare intanto? Sicuramente pesa, perché volevamo dare un segnale dopo la sconfitta in casa con la Cremonese. Per me abbiamo fatto un primo tempo equilibrato, dove eravamo compatti, non abbiamo rischiato più di tanto, anche all'inizio del secondo tempo, purtroppo dopo su palla inattiva abbiamo subito il primo gol e quello credo che ci ha tagliato un po' le gambe, perché dopo è diventata difficile, loro si sono difesi bene. Abbiamo preso anche il 2-0 su un'spinta, dopo l'arbitro, sono scelte dell'arbitro con la VAR. Siamo riusciti dopo a recuperare subito il primo gol di svantaggio e poi sul più bello, quando speravamo di poter recuperare la partita nel finale, è arrivato il 3-1. E purtroppo è andata così, è un'altra sconfitta che pesa, anche perché fino al momento del gol dell'1-0 non avevamo corso chissà quali rischi. È vero, magari non avevamo creato come altre partite, però era una partita diversa, su un campo difficile. Serviva una prestazione più tosta, più da squadra compatta e per me fino al gol del loro vantaggio l'abbiamo fatta. Dopo, ripeto, quel gol lì per me ci ha tagliato un po' le gambe, è stato difficile poi recuperare. Il primo gol loro è arrivato dopo qualche occasione nostra, sembrava un momento per noi importante. Ritieni che possa essere anche più una questione forse mentale che tattica? Come ti ho detto adesso, per me quando succedono sono episodi, perché quando prendi gol su palla inattiva sappiamo che sono circostanze dove bisogna stare concentrati, però a palla inattiva sono situazioni pericolose per la squadra avversaria e dobbiamo essere più bravi a non concedere questi tipi di palla inattiva, di calci di punizione perché soprattutto nel campionato di Serie B le squadre sono molto preparate su questi episodi perché cercano sempre di sbloccare la partita anche con queste occasioni. È stato, non credo che sia un fatto mentale, come ho detto prima, l'1-0 così dopo che abbiamo creato comunque qualche occasione prima del gol, è molto difficile da mandare giù e poi dopo pochi minuti è arrivato il 2-0 quando ci stavamo ancora premendo per ritrovare il paleggio e ci ha tagliato un po' le gambe però come stiamo appena dicendo negli spogliatoi c'è subito una partita della prossima partita col Pisa che è una squadra che sta facendo benissimo, ha iniziato veramente alla grande, ha vinto tutte le partite. Sappiamo che ormai dobbiamo capire che le squadre che affrontiamo in Serie B sono tutte squadre difficili soprattutto quando giochi in trasferta, sono squadre toste che dobbiamo sicuramente migliorare sotto questo aspetto di diventare più squadra, però io sono sicuro che con il lavoro che stiamo facendo piano piano troveremo la quadratura giusta e dopo non ci saranno problemi. Grazie a tutti.